Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro oggi la terza maglia del PSG per la stagione in corso la 2023-2024. Questa è in edizione Player. Vi ricordo che l'edizione Player è quella un po' più tecnica per i calciatori. Grazie a tutti. Cosa ne pensate della maglia? A me piace molto. Tra l'altro il tessuto di questa versione Player è veramente molto molto bello. Diverso da tante altre Player di Nike che ho visto. Il costo lo vedete qui sopra? Non c'è da aggiungere altro. Decidete voi cosa fare. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché sul sito oltre a questa ci sono tantissime maglie che vi aspettano. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure. Prima però iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto quello che dovete fare ma che ci aiuta a mostrarvi recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.